questa è la form lab form 2 è una stampante che di solito si può trovare nella zona stampanti e plotter del fab lab è una stampante sla molto semplice da utilizzare riusciamo ad ottenere stampe con superficie liscia e lucida con maggiore molta maggiore risoluzione rispetto ad una tradizionale stampante a filamento per chi volesse usare questa stampante c'è un piccolo corso un'abilitazione iniziale che riguarda solamente il software form lab preform naturalmente in ogni caso è possibile scaricare i formati stl da banche dati online o comunque utilizzare un modellatore 3d abbiamo la possibilità di utilizzare veramente molte resine dalle resine colorate alla resina trasparente per applicazioni simili al vetro abbiamo resine anche performanti dal punto di vista ingegneristico quindi caricate a vetro per una maggior durezza oppure resine flessibili per applicazioni simili al tpu o simile alla gomma facciamo adesso un esempio pratico stampando un modello 3d possiamo confrontare una parte stampata in sla e una parte stampata in fdm possiamo notare subito l'assenza degli strati la maggiore uniformità nella superficie e la maggiore precisione di stampa l'assenza degli scrittori per acqua l'assenza degli strati di stampa l'assenza degli strati di stampa Grazie a tutti.